Salve a tutti dal bar di Red Comet con questo secondo C-Trap. Visto che la formula C-Trap ha riscontrato il vostro interesse proseguiamo quindi piccoli aggiornamenti sempre ricordandovi che però i C-Trap non andranno a sostituire le live ma sono dei piccoli riempitivi fra una live e l'altra. Allora notizia di questi giorni gli americani hanno dichiarato che vista la necessità di rifornire l'Ucraina con un numero credibile di missili Atacams hanno riattivato le loro linee di produzione e stanno aumentando la protezione ai missili Atacams. Missili e asset importantissimi per colpire bersagli in profondità e soprattutto con una precisione quasi millimetrica. E questa è una delle buone notizie che arrivano riguardo al conflitto ucraino. Quanto agli sforzi ucraini di limitare e di andare a colpire gli asset importanti dei russi qui vediamo una batteria Buk missili contraerei sotto attacco dei droni. Se voi guardate in basso alla vostra sinistra si vede quel piccolo crocicchio bianco è un drone FPV ucraino che sta per giungere a bersaglio. Questa cosa comunque fa parte quella di colpire ripetutamente le contraere russe ovviamente si rifà alla strategia sia di attaccare i russi e la prima linea russa con droni più o meno grandi ma anche di liberare lo spazio aereo dalla minaccia di queste contraere che potrebbero inficiare anzi che inficiano gli sforzi dell'aeronautica ucraina che comunque opera con mezzi molto limitati. Ovviamente i Buk non sono gli S-300 non sono gli S-400 sono comunque dei sistemi contraeri molto recenti comunque di valore e andarli a colpire rappresenta un obiettivo comunque primario per gli sforzi bellici degli ucraini. Non fosse altro per il tanto atteso arrivo degli F-16 sul teatro dei combattimenti. Vediamo la zona invece di Orekitne. Qui arrivano le brutte notizie. Come già si era profilato lo sfondamento di Orekitne il momentum dei russi continua. Ormai Orekitne è completamente nelle mani russe. Hanno consolidato le posizioni leggermente a nord di Orekitne e continuano ad avanzare verso Nuova Alessandrivka. Questo comunque fa vedere che i russi nonostante le perdite comunque vanno avanti. Probabilmente hanno proprio il mandato di poter presentare, di far sì che Putin per la parata del 9 maggio possa presentare dei risultati diciamo concreti per da sbaglierare appunto ai fini propagandistici durante la parata. Né in questi giorni soprattutto già da ieri la zona di Keramik e Novo Kalinove sono state saldamente inglobate nell'avanzata russa su Orekitne facendo sì che praticamente il saliente che prima nei giorni scorsi era un budello tra virgolette facilmente gestibile dagli ucraini ormai sta diventando una vera e propria testa di ponte per poi proseguire l'avanzata. Ci riusciranno, non ci riusciranno, è un momento di grande affanno. Gli ucraini evidentemente hanno poche munizioni per controbattere mentre d'altro canto i russi tra sganci di Fab 1500, di bombe cab, bombe plananti e anche sbarramenti di artiglieria stanno riuscendo comunque ad andare avanti. Spostiamoci invece nella zona di Chasiviar, Chasiviar, Slovians Bridge e così via. Anche qui i combattimenti sono importantissimi e i russi hanno parzialmente trovato un varco a sud del canal del canale nella parte sud di Chasiviar e stanno provando a sfruttarlo. Hanno fatto una piccola avanzata fino al punto delimitato in mappa, hanno provato a consolidare la posizione ma ancora non ci sono riusciti. Perché è importante riuscire a sfondare a sud di Chasiviar? Perché una volta superato Chasiviar hanno l'opportunità di poter attaccare in diverse direzioni. Ora andremo a vedere poi più avanti perché può diventare pericolosa questo piccolo sfondamento che ancora non si è concretizzato, che però sta prendendo piede grazie proprio al supporto che i russi possono mettere in campo. Praticamente se riescono a sfondare a sud possono arrivare fino a Costantinivca e l'unico paese che bloccherebbe la strada è quello di Stupocni. Questo perché? Perché passare da Stupocni? Perché subito a sud di Chasiviar è tutta una zona di foreste, acquitrini, paludi eccetera eccetera che magari sono stati bonificati ma comunque sono laghi, laghetti e sono difficilmente attraversabili. Come si vede nella mappa, se riescono a sfondare in questo punto c'è praticamente un barco e quindi sulla loro strada c'è il passino di Stupocni per poi arrivare a Costantinivca. Voi direte sì va bene ma alla fine cosa se ne viene? Ve lo spiego più avanti. Nel frattempo i russi hanno fatto tutta una serie di attacchi su Bilorivca in direzione Siversk, attacchi che sono stati comunque rintuzzati dalle difese ucraine e che per fortuna almeno per adesso non hanno ottenuto alcun risultato. Si sta però delineando uno scenario preoccupante che adesso andiamo a vedere nella prossima mappa. Praticamente cosa sta succedendo? Fondamentalmente i russi stanno avanzando su due direttrici principali. Una più corta, diciamo a più corto respiro, che è un aggiramento su Chasiviar, che serve a creare un pericolo per una piccola zona. Mentre lo sfondamento verso Orekitne, come vedete voi in basso a sinistra, è un accerchiamento più ampio. Quindi fondamentalmente stanno tentando di creare un accerchiamento che su Chasiviar chiude su Kordyumka. Mentre da Orekitne proprio va a chiudere tutto questo spazio che si vede praticamente alle spalle di Bakbut. Ora in questo momento non sappiamo se i russi riusciranno a completare questa manovra. Un dato di fatto preoccupante è che però dall'oblast di Zaporizia i russi hanno ridislocato sulla parte orientale del fronte sia la settima Vdv che la settantaseesima Vdv. Segno che se le hanno spostate dal fronte di Zaporizia fino al fronte Bakbut, Orekitne, Chasiviar e così via, vuol dire che sul fronte di Zaporizia non si aspettano colpi di testa da parte degli ucraini. Questa è la situazione al 2 di maggio, quindi andiamo a vedere come si sviluppa. Rimanete sintonizzati e vediamo un pochino cosa ne viene di tutto questo. Detto questo il bar di Red Comet vi saluta e vi auguro buona giornata.